Le situazioni, volevo dire appunto per quanto riguarda la grafica che abbiamo mandato in onda, ci sono qualche... A sinistra Lupi, il tocco dell'ex Modena sempre per... Poi con il Verona di Mandorini era stato schierato spesso anche mediano e qualche volta interno alto. Attacca di nuovo il Verona, lo fa con Bessa, ha guagnato parecchi metri dentro la metà campo del Cittadella. Tutra ienne, lancio verso Bessa, ben tenuto da Scaglia al conto, attenzione messo qui sotto pressione, rischia tantissimo, Paccini recupera lì. Lo scambio tra i due attaccanti di Venturato, allora il Verona vuole ragionare con Bessa, agganciato, l'arbitro lascia... Di preclude l'equilibrio per tirare in porta, però non in maniera così vista. Bessa, Maresca, tocco di ritorno ancora per il brasiliano, ex Bologna e Como. La sua è una battuta laterale, palla che triusce fuori, rimessa Verona. Bessa, apre tutto dall'altra parte, sopra Yen. Vuole sveltire l'azione il Verona, con le mani Romulo, Bessa, ancora Romulo, palla di ritorno, pallone un po' scomodo per Bessa. Bessa, per Verona, Romulo, Bessa. A pre-destra per Romulo, parte il cross, secondo... Tutto a Vente Godi... Senta il trastrito, al posto di Righini, vedremo al posto di chi... Questa subito per Iori, palla che passa... Senta il trastrito, al posto di chi...